Questa sembra una normalissima batteria stile ad un primo sguardo, ma non è proprio così. Batterie stile e ministilo, chi di voi le usa ancora ragazzi? Beh, io di certo, tanti radiocomandi dei miei droni utilizzano ancora queste batterie, il controller della Xbox, questi, il telecomando della TV e tanti altri apparecchi elettronici, essenzialmente di uso domestico, una tecnologia obsoleta, ma ancora utilizzata. Ma se ora vi dicessi che anche loro si sono evolute? Ci credereste? Queste che possono sembrare delle semplicissime batterie stile, nascondono invece un piccolo ma grande segreto, una grande novità. Guardate, sono infatti dotate di una porta, un ingresso di ricarica USB di tipo C. Finalmente possiamo dire addio alle batterie usa e getta super inquinanti o quelle ricaricabili che però richiedono dei caricabatterie specifici, spesso molto ingombranti da portarsi dietro? Queste sono una vera novità. Questa è la variante stilo, ci sono anche le mini stilo e altri tipi, comunque sono batterie al litio da 1,5 volt in grado di alimentare qualsiasi apparecchio. Utilizzi queste batterie e quando scariche possono essere ricaricate facilmente in pochi minuti tramite il moderno e comodo ingresso USB di tipo C. Per non farci mancare nulla nella sua confezione troviamo anche un cavo di ricarica USB A da una parte e ben 4 USB C dall'altra estremità per caricare più batterie simultaneamente. C'è anche un indicatore LED attorno alla porta USB C che ci indica lo stato di carica verde, quindi sono completamente cariche pronte per essere utilizzate. E ora possono essere tranquillamente utilizzate esattamente come delle normalissime batterie. La carica di questo modello specifico è di 2600 mAh. Quindi ragazzi trovate che siano un'idea interessante oppure no? Beh, secondo me sono un'idea assolutamente geniale. Finalmente basta batterie use e getta o caricabatterie molto voluminosi e ingombranti, ora possiamo ricaricare le nostre batterie con un semplice cavo USB C, quello degli smartphone, ma va bene anche una power bank. Comunque fatemi sapere la vostra opinione su queste batterie lasciando un commento qui sotto. E se volete acquistarle, beh, ovviamente le trovate in offerta dove nel mio canale Telegram ufficiale TechBestDeals vi basta aprire la descrizione del video qui sotto, cliccare su primo link, entrare e cercare batterie AA o AAAA ricaricabili e le troverete al loro prezzo più basso. Ci sono vari marchi e diversi modelli, comunque cerco di segnalarvi solo quelli con le recensioni migliori o comunque più validi. Se non conoscevate questo prodotto e lo avete trovato interessante, beh, potete supportarmi lasciandomi un semplice like, iscrivendovi al canale e condividendo questo video a tutti i vostri amici. Questo è davvero tutto, io vi saluto e vi do appuntamento al mio prossimo video, sempre che lo vogliate, sempre qui su Addictest to Tech. Alla prossima, ciao ragazzi! Ciao!